Ehi, sono di qua! Ehi, come butta? Non te ne andare, resta qui! Ehi, ma guarda, niente male! Sì, fico! Ah, wow, fico! Alla grazie! Wow! Wow! Cristo, sei una monnalisa! Ehi! Ti vedo e sto già meglio! Fattele! Sì, sì, stronzo! Fatti un clistere d'aceto! Sai cosa? No! Indietro! Stronzo! Poi prendi! Faccia da culo! Forza! È fantastico! Cazzo! Stupido! Non fare così! Oh! Best! Chi se ne frega! Vaffanculo tu e tua madre! Ehi! Datti una sistemata! Continua così e te ne pentirai! Vaffanculo tu, tua madre, tuo padre, tua madre... Che cazzo nata! Non succederò sempre quando c'è più queste cose! Aspetta! Non dire che non ti avevo avvisato! Oh! Cazzo! Perché? Vai a buttare! Non continui a spingere! Vuoi attaccare briga? Ma che succede? Capisco! Che interessante! Il CDOS ha verificato la sua posizione! La polizia è in arrivo! Elsie! Comprati un vocabolario! Bel lavoro! Idiota! Oh! Ehi! Fanculo! Dilocco! Ti sfido! Ehi! Non è vero! Non è vero! Non mi prenderete! Ora si ragiona! Oddio! Sì! Respira! Andrà tutto bene! Tutto bene! Forza! Forza! Ehi la, come butta? Che giornata. Ehi! Ehi, che mi dici? Appena fuori dai coglioni. Ho tutto. Secondo me sono fantastici, i gruppi altri. Mi piacciono. Mi piace che hanno le palle di unirsi a affrontare i politici corrotti, i robisti, e tutta la gente che rovina il mondo. Secondo me, sotto sotto stanno aiutando la gente. Stanno proteggendo i diritti civili dell'umanità. Sì, i diritti civili. Proprio così. Ho aperto un nuovo ristorante a San Francisco. Sì, i diritti civili. Sì, i diritti civili. ? Quasi, i diritti civili. Sì, i diritti civili. È una sciclazione. Sì. Buona Grazie a tutti 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 Tu mi capisci Grazie a tutti 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 Cosa Grazie a tutti 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 Non hai Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti